Mare agitato e in prudenza, altro weekend di soccorsi ai bagnanti. Turismo, alberghi pieni e si rivedono gli stranieri. Dal campo scuola alle palestre, una nuova gestione degli impianti sportivi a Pesaro. In mezzo alla crisi di governo, torna la festa dell'unità. Vispesaro, i tifosi progettano il futuro assieme al presidente Bosco. Carissimi amici di Rossini TV, benvenuti al nostro telegiornale Rossini News. Oggi è lunedì 18 luglio, apriamo quest'edizione occupandoci del weekend appena trascorso sulle spiagge di Pesaro e Fano, dove si sono registrati diversi episodi di soccorso ai bagnanti che hanno rischiato di annegare. Il tutto a poco più di una settimana dalla tragedia che si era consumata sulla spiaggia di Gimarra. Vediamo il servizio. Acque agitate, imprudenza ancora eccessiva. Così, a distanza di una settimana dalla tragedia che ha visto annegare a Gimarra papà e figlio Davide Fabio Zandri di Calcinelli, quello appena trascorso è stato un altro weekend di super lavoro per i bagnini di salvataggio. Bagnini protagonisti infatti di diversi soccorsi, per fortuna a buon fine, fra le spiagge di Pesaro e Fano, dove batteva bandiera rossa per una giornata all'insegna di costanti moti ondosi. Domenica a Pesaro due donne sono state tratte in salva attorno alle 13.30 nelle acque di Ponente, di fronte ai bagni delle poste. Le due bagnanti hanno cominciato ad annaspare e hanno finito per essere trasportate dalla corrente oltre le scogliere. Sono intervenuti tre bagnini di salvataggio fra chi si è mosso a nuoto e chi con il moscone e hanno riportato a riva le due donne fra gli sguardi preoccupati dei tanti frequentatori della spiaggia. Una delle due donne si è ripresa sul posto, l'altra è stata portata per accertamenti al pronto soccorso. Altro lavoro per i bagnini sulla spiaggia di Levante, dove all'altezza di Bagni Primavera, più o meno alla stessa ora, un trentenne di origine indiana, che si trovava in mare assieme a un gruppo di coetanei, è stato soccorso dopo un principio di annegamento e trasportato in ambulanza. Tre bagnini di salvataggio in azione anche nella spiaggia di Torrette di Fano, dove ha rischiato di annegare un turista trentenne di città di Castello alle prese con un mare impetuoso che ha messo in difficoltà gli stessi soccorritori che, dopo più tentativi, sono riusciti a trarre in salvo il malcapitato. Insomma, dopo la tragedia della famiglia Zandri, altri tre campanelli d'allarme a ricordare che col mare non si scherza. Spiagge piene, alberghi idem. Superata la metà di luglio, il turismo della provincia di Pesaro Urbino sta raccogliendo riscontri confortanti. È la prima estate di consistente ritorno sul territorio dei turisti stranieri. Come ci spiega il direttore provinciale di Confcommercio, Amerigo Varotti. I riscontri sono assolutamente positivi, direi non solo per la stagione estiva, ma dal primo di gennaio arrivare ad oggi abbiamo un riscontro estremamente positivo, non solo per l'aumento delle presenze turistiche che complessivamente nella nostra provincia si attestano su un più 100%, ma per la presenza di turisti stranieri. Quindi c'è un ritorno importante, siamo oltre il 75% di aumento rispetto al 2021. Certo, il 2021 era l'anno del Covid e quindi gli stranieri non si sono visti. Ricordo però che anche quest'anno, fino al mese di maggio, c'erano le restrizioni per l'accesso in Italia dei turisti stranieri. Solo in Italia, per venire in Italia, bisognava fare o quarantene o comunque avere fatto la terza dose dei vaccini, mentre in altri paesi non c'erano queste restrizioni. Quindi il fatto che oggi abbiamo questo importante ritorno dei stranieri è un buon segnale, non solo perché abbiamo un luglio, ad esempio Pesaro, Fano e Gabice non si trovano a Camere, ma è un buon auspicio per la prosecuzione dell'anno, perché io ricordo sempre che il nostro obiettivo è quello di ragionare su un turismo 365 giorni. Quindi è andata molto bene per i Borghi, è andata molto bene per Urbino, è andata molto bene per Mondavi, è andata molto bene per Fossombrone, molto bene, anzi direi moltissimo bene, se si potesse dire, per gradare. Le località balneari stanno avendo un riscontro estremamente positivo. Noi stessi in questi giorni abbiamo un press tour con la stampa nazionale, non abbiamo trovato Camere disponibili a Pesaro, quindi questo la dice lunga. Però è un mese, è un periodo dell'anno, speriamo che continui questo andamento e che purtroppo l'aumento dei dati negativi del Covid, anzi positivi del Covid, non implichi un blocco di questi che sono al momento risultati molto importanti. Ed ora passiamo alla cronaca perché la Guardia di Finanza ha sequestrato in un negozio di Pesaro gestito da extracomunitari 20.000 articoli commerciali, soprattutto bigiotteria, ritenuti fuori legge in quanto privi delle obbligatorie indicazioni di provenienza e composizione merciologica e dunque potenzialmente dannosi alla salute. Le fiamme gialle hanno segnalato i responsabili e la Camera di Commercio competente per la definizione delle sanzioni amministrative contestate che prevedono multe che possono arrivare fino a 25.800 euro. Ed ora spazio alla viabilità perché dopo due mesi di traffico stradale privo di ostacoli questa mattina a Pesaro sono tornati i cantieri e le interruzioni alla circolazione veicolare all'intersezione tra via Fratti, via Trometta, via Giolitti e via Belgioioso. Si tratta del previsto piano di lavori a step coordinato da marche multiservizi per scavi e bonifica delle reti di gas, acqua e illuminazione. Da oggi infatti risalendo dal cimitero per via Belgioioso non si può accedere alla rotatoria con via Trometta, via Giolitti o via Fratti ma è prevista la svolta obbligatoria in via Grazioli. La prossima settimana anche nelle vie sopraecitate saranno previsti cantieri e modifiche alla circolazione per lavori che dovrebbero concludersi il 31 luglio. Ed ora andiamo a parlare delle scuole del nostro territorio perché è davvero una pioggia di fondi quella che sta arrivando per la bellissima Villa Caprile che ha ottenuto oltre 2.300.000 euro dal PNRR per la realizzazione di una nuova palestra nella sede dell'Istituto Agrario Cecchi. Giuseppe Paolini, presidente della provincia che ha intercettato il fondo ha reso noto che il progetto del Cecchi è arrivato primo in graduatoria ed è stato l'unico ad ottenere il finanziamento da quelli presentati da tutte le province delle Marche per le infrastrutture dello sport nelle scuole. Si tratta di fondi che si aggiungono ai 6 milioni e mezzo ottenuti dal PNRR per l'adeguamento sismico dell'edificio principale del Cecchi ai 2 milioni incamerati per il restauro e la valorizzazione dei giardini storici e dei 3,7 milioni ottenuti per il nuovo convitto dal piano regionale triennale. Il campo scuola, 5 palestre e 14 piste polivalenti del Comune di Pesaro si apprestano ad una nuova gestione che contemplerà anche l'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Asi e Cooperativa T41B ottengono il nuovo bando di gestione indetto dal Comune di Pesaro per la coprogettazione di impianti e attività sportive. Nello specifico, fino ad aprile 2025, ma con gestione rinnovabile per altri tre anni, avranno sotto la loro custodia monitoraggio il campo scuola di Via Respighi, 5 palestre comunali come la Vecchia Carducci, Turati, Polo 3 di Villa Ceccolini, Celletta e Ledimar e 14 fra piste polivalenti e campetti di quartiere. L'Asi, associazione sportiva e sociale italiana, già attiva in una simile gestione di impianti su Fano, Valle Foglia e Macerata Feltria, si allarga su Pesaro con un bando che contemplerà anche l'attività della Cooperativa T41B che già da anni era deputata a pulizia e custodia del campo scuola. Il campo scuola è il campo principale che è al centro di questa coprogettazione, più 5 palestre che coprono un po' tutto il territorio, inoltre abbiamo 14 piste polivalenti che sono le classiche piste del quartiere aperte a tutto il pubblico ma per il quale ci accogliamo in qualche modo la gestione e la pulizia. Sull'attività sportiva dove noi come Asi siamo più specializzati, al campo scuola abbiamo già riattivato l'Educamp che era qualche anno che era assente dal campo scuola e questa settimana sempre sta partendo il camp sportivo di calcio della Raffaella Manieri. Sulle altre palestre in realtà ci sono già attività, intendiamo portare avanti quello che tutti gli anni veniva fatto, quindi lo stesso programma più o meno annuale delle varie società sportive, fra basket e piuttosto che ginnastica dolce o altre realtà, verrà portato avanti. Quindi noi come Asi, dove magari ci sarà qualche buco negli orari, potremmo proporre qualcosa di nostro, però in realtà il nostro lavoro sarà quello di portare avanti e gestire queste attività che già erano strutturate gli scorsi anni. Noi abbiamo scelto oltre di dare un servizio di custodia e pulizia, anche dare una vera e propria gestione, non solo quella che è il campo scuola ma quelle che sono le piste polivalenti e le palestre comunali. Quindi di fatto ci sarà un occhio in più sulle piste polivalenti che sono i classici campietti di quartiere, quindi di fatto non vuol dire che quei campetti non potranno essere utilizzati dai cittadini, ma potranno essere utilizzati con un occhio in più da parte di una società che gestisce quelle piste per l'amministrazione comunale, quindi una retina che è stata rotta, una staccionata che si è rotta, quindi ci sarà chi provvede in autonomia alla sostituzione. Per quel che riguarda il campo scuola aumenteranno le attività che sono lì, aumenterà il presidio e la presenza delle persone che gestiranno e custodiranno quello che diciamo è il patrimonio dell'amministrazione comunale, ma è il patrimonio di tutti. Stessa cosa per gli impianti sportivi, nel caso specifico si parla di cinque palestre che avranno una gestione diretta da parte di questo soggetto. Per l'utenza degli impianti cambierà poco o nulla al di fatto che l'accesso agli spogliatoi del campo scuola ora richiederà la sottoscrizione di un abbonamento dalla quota annuale di circa 60 euro. Non sarà solo una gestione di impianti sportivi, ma anche un'occasione per opportunità di impiego per soggetti con disabilità o con situazioni di disagio, come previsto dalla copregettazione con la cooperativa T41B. In realtà noi potevamo anche andare a bando, ma in realtà ci siamo messi un tavolo insieme a T41 comprendendo che in realtà ci completavamo a vicenda in quanto noi più specializzati sulla parte sportiva loro su quella della parte sociale, borsa lavoro eccetera, più anche la parte proprio della gestione del verde e tutto il resto quindi sicuramente è stato un binomio importante per noi perché riusciamo a completarci e quindi ci permette anche noi che eravamo in realtà forse un po' spaventati inizialmente per questa grossa moneda di impianti a riuscire ad andare avanti con maggior tranquillità. E in mezzo a giorni molto convulsi per la politica italiana, il governo, arriva la festa dell'unità a Pesaro con diversi ospiti di spicco del Partito Democratico. Da mercoledì fino a domenica faranno tappa a Baia Flaminia. Ritorna la festa quest'anno nella nuova location di Baia Flaminia e il Partito Democratico mantiene questo impegno estivo di ritrovarsi attorno ai temi della politica quanto più urgente e attuale anche per i nuovi scenari nazionali che stanno emergendo. Cominciamo il 20 con un incontro sui sindaci alle ore 21, quindi apriamo la festa con la politica e insieme al sindaco Matteo Ricci ci saranno il direttore del Tg2 San Giuliano a intervistare diverse sindache che hanno vinto le recenti elezioni o stanno amministrando le proprie città. Dal 21 invece alterniamo politica e spettacolo, quindi parleremo di politica nazionale e regionale perché avremo l'assemblea degli eletti del PD Marche. Praticamente da tutta la regione verranno i nostri esponenti, i nostri amministratori, i nostri segretari e faranno un'assemblea aperta nel prato di Baia Flaminia moderato dal commissario Losacco dove interverranno anche i nostri consiglieri regionali Biancani Vitri. La sera si fa lo spettacolo di teatro dialettale della piccola ribalta. Dal 22 entriamo solo sul nazionale, abbiamo diversi parlamentari che si alterneranno nelle varie giornate e parlamentari ed eurodeputati perché abbiamo anche una collaborazione con il nostro gruppo a Bruxelles che avrà uno stand e ci manderà diversi eurodeputati. Il 22 si parla di politica nazionale, viene la nostra capogruppo del Senato Malpezzi che interagirà col sindaco di Bologna e l'Epore e con la nostra parlamentaria Alessia Morani. Quindi sarà il momento per parlare un po' di futuro della politica visto che in questo momento è abbastanza frenetica. E alle ore 21 invece ricorderemo, come ha già detto il segretario Bellucci, il nostro amico e compagno Alex Eusepi scomparso recentemente con un concerto organizzato insieme all'associazione di cui faceva parte, Periferica. Sabato 23 invece parliamo molto di Europa, avremo due eurodeputati, la Bonafè e Smeriglio che interagiranno con Mancini, che è un nostro parlamentare della Commissione Bilancio e con Luca Ceriscioli, l'ex governatore della Regione Marche. Sarà un momento per parlare del rapporto tra l'Europa, l'Italia e la Regione. Subito dopo la sera avremo un concerto dei Cipwine Domenica invece, è il giorno più fitto, avremo un incontro sull'agricoltura, verrà la nostra eurodeputata Laureti della Commissione Agricoltura che interagirà con gli esponenti delle associazioni locali moderata da Paolini, il Presidente della provincia. Subito dopo alle 19 verrà il governatore della Regione Campania, De Luca che presenterà il suo ultimo libro e successivamente la sera chiudiamo con un ricordo di Raffaella Carrà Fare festa per un partito è ritrovarsi, ritrovare le motivazioni di un dialogo, ritrovare le motivazioni di uno stare insieme, discutendo, discutendo dei temi di attualità, facendo festa durante una cena, durante un ascolto di un gruppo musicale o una commedia dialettale. È una modalità normale che una forza politica dovrebbe avere nel suo DNA, il PD la sta portando avanti nonostante le difficoltà organizzative che il tempo ovviamente ci presenta tutti gli anni ma le stesse difficoltà ovviamente vengono colmate dall'entusiasmo di un gruppo di giovani democratici in particolare che sta dando una grande spinta, una grande forza nell'organizzazione di questo evento. La strada della Gola del Furlo, chiusa da un anno e mezzo, riaprirà ufficialmente sabato 23 luglio alle 16.30. Sono infatti terminati i lavori a cura di Enel Green Power Italia per la messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante la ex strada Flaminia. Il cantiere dei lavori avviato agli inizi di marzo a seguito di un protocollo d'intesa tra Enel, provincia, comune di Fermignano, Ente Parco e il padrocinio della regione Marche si è concluso in circa 4 mesi e dopo 400 mila euro di investimento. Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri assieme ad una nutrita delegazione comunale ha fatto tappa questa mattina all'aeroporto di Milano Malpensa per accogliere in trionfo i cittadini Davide Mazzanti e Matteo Bertini commissario tecnico e assistente della Nazionale di Palavolo Femminile che ieri ha vinto la Nations League in finale col Brasile. Una tradizione quella fra il comune e gli illustri concittadini marottesi che si ripete dopo il precedente trionfo dell'Italvolley agli europei. Il weekend oro della pallavolo italiana è stato tra l'altro completato dall'Italia Under 21 che ha vinto il titolo europeo in finale con la Serbia. Italia Under 21 che vanta fra le sue fila anche la giovane pesarese Valentina Bartolucci nata e cresciuta nel quartiere di Villa San Martino. Ed ora ci spostiamo a Fano e le immagini che state vedendo si riferiscono all'evento conclusivo di ieri all'Affano dei Cesari, la prima inversione completa post-Covid con quasi 2000 persone in abiti romani ed un'emozionante corsa delle bighe. L'evento ha coinvolto 15 gruppi storici provenienti da tutta Italia in una parata di 250 rievocatori che hanno avuto come protagoniste le quattro fazioni cittadine di Volpe, Delfino, Lupo e Cinghiale con 1500 persone che dall'arco d'Augusto hanno percorso l'anello in sabbia del Pincio dove è andata in scena anche lo spettacolare Testudo ovvero la manovra militare che porta i legionari a coprirsi con gli scudi di fronte all'attacco del nemico. Infine la corsa delle bighe ha visto la Volpe battere nella finale il Delfino con un duello all'ultima curva. E chiudiamo la nostra edizione del telegiornale parlando di sport e con una nostra intervista al presidente della VIS Mauro Bosco in occasione del partecipato incontro tra il patron bianco-rosso e i tifosi pesaresi tenutosi sabato allo stadio. Allora ascoltiamo i temi trattati in questa occasione. Un sabato mattinestivo particolare direi senza precedenti da quando è presidente in una occasione costruttiva di dialogo con i tifosi. Una cosa particolare, la prima domanda sulla squadra è arrivata dopo 40 minuti quindi direi che c'è una tifoseria che ragiona sul medio e lungo termine su tanti argomenti trattati. È vero, anche io sono rimasto sorpreso perché pensavo si parlasse solo di squadra, di mercato, di innesti, invece no. Si è fatto veramente un confronto su altri temi che se vogliamo sono anche più strategici, più importanti della mera squadra di calcio e si è parlato di calcio solamente alla fine. Questa è una cosa che ho apprezzato perché effettivamente dimostra che anche da parte della città, della tifoseria, c'è proprio una voglia di crescere insieme, di parlare di progetto, di futuro e questo, diciamo, è qualcosa che ci sta distinguendo quindi mi rende contento. È vero, è la prima volta che si fa una cosa del genere almeno qui a Pesaro per quanto mi riguarda ci mancherebbe è legato anche al Covid ovviamente noi non ci dimentichiamo che veniamo da anni di pandemia però finalmente si può cominciare a dialogare appunto con la città con la tifoseria, a ragionare insieme quindi sicuramente è la prima volta che si fa ma sono certo che ci saranno altri momenti come questo. Primissima domanda che l'è stata fatta primissimo argomento trattato che poi ne ha seguito altre domande come far crescere l'affezione del pubblico che credo che sia uno degli argomenti che le sta più a cuore. Sì, questo è uno degli argomenti che mi è più a cuore è vero, la stranezza, il paradosso è che a Pesaro è una città che vive di sport, è città dello sport milita e anche a livelli importanti in quasi tutte le discipline sportive a partire da calcio a 5, basket, rugby e quant'altro e su calcio abbiamo un'affezione che sta crescendo però è sempre stato visto come quasi uno sport di secondo livello nei decenni. Adesso stiamo cercando di risalire la china e dare a calcio a Pesaro la giusta dignità che merita. Anche la scelta di Sassarini sembra essere andata in quella direzione si è andato a prendere un allenatore che ha legato, ha convogliato quella passione e magari provare a replicarlo? Sì, questa sicuramente è una lettura quindi Sassarini è stato già qui a Pesaro e ha dimostrato di saper fare un bel gioco propositivo, attraente verso lo spettacolo che dicevamo prima quindi per far ancora più coinvolgente da vedere quindi sicuramente da questo punto di vista la scelta di Sassarini potrebbe essere quella giusta però non nascondo che Sassarini è stato scelto anche perché io personalmente, così come tutto il mio gruppo crediamo nelle sue qualità tecniche, nelle sue capacità nelle sue doti umane perché comunque ha anche una personalità importante quindi ci riesce a dare tanto sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono con Sassarini quindi è stato scelto non solo perché è stato a Pesaro e ha fatto bene ma perché è piaciuto a me in primis Altri due temi toccati, infrastruttura stadio e il vivaio sono due pilastri di questa bella casa che vogliamo costruire quello delle infrastrutture ovviamente è il tema cruciale l'infrastruttura sportiva è un tema cruciale per la nazione intera insomma noi come Sistema Italia siamo indietro dal punto di vista infrastrutturale rispetto a tante altre realtà non italiane quindi è un tema profondo, delicato e noi stiamo facendo la nostra parte come Pesaro stiamo cercando di distinguerci da tanti altri stiamo cercando di puntare sulle infrastrutture il centro sportivo rappresenta un investimento importante per noi che sicuramente farà crescere la VIS e adesso si sta cominciando appunto a dialogare con l'amministrazione anche per ulteriori investimenti allo stadio se riuscissimo a completare nel giro di un paio d'anni anche il discorso stadio veramente saremo un'eccellenza nel panorama calcistico della Lega Pro italiana sulle accademi anche lì non ci dimentichiamo che quando io sono arrivato neanche esisteva l'accademi della VIS Pesaro questo giusto per dimostrare il tanto che è stato fatto anche da questo punto di vista noi abbiamo, è stata fondata proprio un'accademi con il mio avvento che è cresciuta sempre di più in questi anni e oggi raccoglie qualche centinaia di tesserati quindi partendo da zero in pochi anni nonostante poi le difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti a fare qualcosa di importante questo per l'accademi ma potremmo estendere il discorso al settore femminile al settore giovanile la primavera che sta avendo avuto grandissimi risultati già il fatto che militiamo in primavera 3 ci distingue dalla metà dei club di Lega Pro che militano ancora in primavera 4 in primavera 3 abbiamo fatto un campionato di assoluto vertice siamo usciti fuori alle semifinali pre-off quindi dall'accademi al settore giovanile a femminile alla prima squadra penso che anche dal punto di vista sportivo una crescita è visibile insomma eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale vi ricordo carissimi amici di segnalarci le cose che non vanno le disfunzioni che trovate nel vostro comune attraverso il nostro numero di whatsapp che state vedendo in sovrimpressione salvatelo nella vostra rubrica per poter contattarci in qualsiasi momento e invece adesso andiamo a vedere quella che è la programmazione di questa sera di Rossini TV se vi siete persi la seconda stagione di Master Fish il pesce va in onda questo contest culinario a base di pesce con chef amatoriali avete la possibilità di farlo questa sera alle 21.20 mentre domani vi aspetto con il consueto appuntamento con la rassegna stampa saremo in diretta alle 7.20 in diretta sul canale 80 e in diretta sulla nostra pagina Facebook Rossini TV e sul nostro sito e adesso per voi il meteo vediamo come sarà il tempo i prossimi giorni grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito